ola eccoci qua iniziamo questa di uno prima di iniziarla però vi do qualche notizia vabbè non è che sia niente di eccezionale però tanto che un po di qualche cambiamento ho detto adatta che se rendi uno no e magari potete trovare avversario proprio forti comprovare che giocatori senza spende l'abusi anzi assolutamente spendendo il contrario spiegano può qualche giocatore che ho sentito di che non è per niente male come si appunto due volte che dio si deve una tre c'è uno a che comunque dice sia veloce può preso socrates che mi fa abbastanza intesa per quanto riguarda la difesa con l'anno buate anche alaba e niente parte vestiti questi scaramucce diciamo le si perché comunque scaramucci di gioco di loro insomma iniziamo a giocare e speriamo bene andiamo un po cosa succede allora per l'avversario vediamo un po quando voglia bravo pisa valutazione 83 ma che vale parte ragazzi se ce la faccio lo dio prima che si inizia già ormai credo che a livello di valità non ci sia più differenza fra le divisioni penso che a partire dalla dei 4 arrivano da di uno travenne in circa le stesse squadre a livello di qualità credo che cambia però anche se cambia il cosmo la qualità dei giocatori stessi di giocatori della playstation per capire non che iniziamo va carlitos vai subito carlitos mamma mia meno male bravo leno bello alaba vai vai alaba e voli tira di es e voli e voli e voli e voli tonino ma dai poi di es ecco o o merte trasblocca lui al sessantesimo 1 a 0 1 a 0 e andiamo de fammelo vedere uff tiro anche brutto fra l'altro ma va bene così Dries Mertens meno male lo ha toccato a Tevez 1 a 0 la sblocca lui tira carlitos tira carlitos io buono te mamma mia leno meno male te c'è ansia è buona vai barbino vai nooo ha piaciuto il palo riconquista il possesso di campo mamma mia mamma mia che culo ragazzi ma quanto si soffre però fuori gioco dai ragazzi dovrebbe essere finito tiriamo la bo qui vai e finisce così prima partita in divisione 1 dopo il ritorno prima partita appunto del video 1 a 0 prima vittoria stagionale speriamo lo dico toccandovi come sempre i genitali sia di buon auspicio dai ragazzi grazie ragazzi soprattutto per questa prima vittoria e grazie fortuna che questa volta ti ha messo del tuo meno male a favore mio incredibilmente vuoi che attraverso ha preso prima ma vi diventa la miseria comunque tre punti dato a buon fine meno male andiamo a fare la seconda seconda partita guardiamo un po' di rimanere diciamo sull'onda no di prima ecco chiaramente premie misto ganzo azarde gan zaghero che tutte le volte vanno c'è mi pulgo quasi sempre ganzo sanchez gazzuto centro avanti fabregas di maria di agliature e bene anche la difesa anche il portiere insomma congratulazioni no non c'era nessuno porca e tira mario grazie una zera al quindicesimo sblocca lui questa qua e andiamo te vai davis carlos davis 2 a 0 ringrazia barbo subito e andiamo te al ventiduesimo agli olide luck bella roba vai triest triest metti 3 a 0 al trentasettesimo mamma mia ragazzi ma come si gio ma come si sta gioando che bello mamma mia meno male bravo samir porca troia 3 a 1 di chi è agher di tonfa nuova mi fa mai go attenzione attenzione nuova oh nuova ecco prima presenza da difensore difensore prima presenza al gol all'esordio ecco mi veniva 4 a 1 4 a 1 sul finale del primo tempo se non sbaglio il 45 è buono vai te abit vai te abit vai te abit no no presa no oi pillala ezz via via fuori no tio buone 4 a 2 addio cos'è successo comunque va 3 a 2 al 65 esimo l'hai riaperta buona fai mario mario gozzi 5 2 fortuno salivazione fra l'alto non so se ci andava comunque meno male ho fatto gol se ne può pol e allora ste gambe si lascia un ped e per favore così fa male il bimbo la punizione che la tirerà attenzione ragazzi si è ritirato e andiamo e andiamo 5 a 2 bisogna essere contenti però bisogna rimanere anche con i piedi per terra 6 punti 8 partite rimaste andiamo a fare la terza terza partita andiamo un po' cosa succederà no cambia maglia ciccio allora bravo per meno si andiamo dai valutazione 81 guardiamo di maria 90 watt in attacco poi c'è il salà della fiorentina fra l'altro c'è un bel casino che comunque rifà l'intesa 100 fa carlitos carlitos che bet 13esimo 1 a 0 la sblocca lui e andiamo cazzo mamma mia mamma mia che c***o mamma mia questo ragazzi rompe le palle questo sa giocare va carlitos bella roba vai 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 tevits eccolo con deviazione 32esimo raddoppia tevits ragazzi ve lo dio sto vincendo meritatamente perchè questo gioco decisamente meglio di me però per ora mi tocco le palle mentre mio non la butta dentro io invece ve le pocasioni che avevo le finalizzo meno male tevits 2 a 0 andiamo bello Martins vai di est mamma mia che tiro però poi ho fatto una nostra strepitosa poi mi fanno c***o c***o dai dai che c***o però prende con cioè ma dai ma dai vengono l'anno perché palle fanno miravole e poi fanno queste scappellate vì così dai bel go ma però c***o ma pilla l'andano vici ma rimane capito ha fatto un bel tiro ma di dai c***o mettici il piede in leva la concorre oi mera 3 a 2 certe idee ragazzi non fate il tempo di prima meno male non fa go ma non c'ho fortuna un piso 3 go maledetta la miseria di insomma vabbè sto perdendo 3 a 2 vai no no eccalo grazie e andiamo che c***o 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 maledetta la miseria fammela ripetere meno male vai è buona vai no attraversa no vai 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 vittorio ma dove c***o vai ma passala via non possiamo in culo finisce 3 a 3 boi barbo maledetta tutta la miseria se alla fine la passa via a tevez nel mezzo di attraversa di vidal porca di vella tro insomma 3 a 3 dopo tutto nonostante eh nessuno di la bravura del mio avversario forse forse mi è andata bene eh quello si però che palle le mani con la mare in bocca che cosa di sprecate nel finale comunque andato a modino 7 punti 3 partite in D1 direi che comunque non è affatto male insomma andiamo a fare la quarta e penultima partita di questo video vediamo un po' chi si troverà nel senso come avversario contro ma valutazione 80 vattro come sempre eh ma vai boi un desliga attacco spaventoso per non parla del centro amp per non parla anche della difesa va vai la casetta no io buono die è buona e tira sciurle ma guarda questo ma come già il tira di sciurle è brutto ma per culo che ora c'era buttata la pesa di testa guarda di petto di spalla brava chi attraverso ti ha preso no ma è andata bene vai sciurle vai e tira dai palo cazzo maledetta miseria di una da zero ma ne ha fatto una sega tutta la partita pallidi chi è rois i porca troia di a parto a scatti ora ma qui c'è allora che finisce guarda questo traverso ma vai al quadrato ma cos'è successo ma l'avete visto anche voi che ha fatto una palliata e ha partito un missile cioè e vai al quadrato no mamma mia pensavo come se dentro ne finisce sì una zero già le palle perché comunque anche se di azioni veri e propri ce ne sono state mi invivo se era che questa era strafattibile però che palle per te il fatto che dopo ho preso cominciano da scatti ma è impressionante un po' c'è avuto anche un po' di sfortuna boi rimango anche vicco la mare in bocca boi già la partì di prima ora vesta cinque punti buttati via perché alla fine ha buttato via cinque punti eh peccato però qui andava tutto purtroppo questa volta era tutto a buon fine insomma andiamo a fare l'ultima partita di questo video insomma eccolo qui versario è un po' valutazione 82 lui rimina attacco bolla a parte bello insomma una squadra che qualitativamente è un po' peggio di solito a quelle che trovo però è pur sempre una buona squadra stiamo bene vai bravo l'anudie tira pole no bravo l'anudie e due sempre su shul da ma che cazzo che palla ma come l'ha leverata di merda prima dei scigli ma perché un quadrato chi era vuoi che palla di 1-0 60esimo è prima prima di fare 62 63esimo che palla eh rigore oh via meno male non sono mai se c'era però di meno male che ho messo rigore va vede te lo fa rivedere il fallo insomma l'azione no stronzo vabbè vai shurley parigino dai gentilmente eccolo qui siamo andrea shurley quanti siamo shurley di nome si mi pare si lo vedi non voglio vedere di voi andrea lo sapevo 1-1 fallo 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 david fallo dame un po' di fa' qualcosa ma cosa posso farli boh provati d'acqua l'abbè addio uno lì subito una vera eh c'è mananima è buona vai eccolo di maria l'ottantavattresimo di diamo 2 a 1 che bello che bello angel di maria di mary bravo di chiacchete ora tutti dietro super mega difensiva molto più logoni guarda faccio i gomaggi e poi te lo ripiglio no 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 oh andiamoli fuori ispiriamo ispiriamo si patrisce mamma mia che ansia oh ma non finisce più oh è finita 2 a 1 la partita di cosa vi pare ma c'è una vittoria non largamente però abbastanza almeno un po' verità perchè anche lui neanche abbia fatto e sa cosa nemmeno io però era un avversario fattibile meno male che stavolta ce l'ho fatta a vince nemmeno a paese già addirittura a vince e niente meno male via quindi situazione allora guardiamola un po' 10 punti no 5 aperti rimasti quindi in teoria ci sono in tavola 20 punti minimo risultato riesto per poter vince se non sbaglio vince ne va 3 pareggianne 1 come minimo altrimenti vince tutte 5 ora io mi pare che io ce la posso fare da obiettivo minimo dire la servezza almeno averla 4 punti dovrebbe essere in teoria abbastanza fattibile boh via ragazzi vi lascio a ve vi lascio a ve e ci rivediamo nel prossimo episodio e niente detto questo vi ricordo come sempre di mettere se volete mi piace di condividere il video ma soprattutto iscrivetevi al canale non mi chiedete perché faccio questa voce tipo così non lo so questa voce è abbastanza stupida mi ci andava di falla e niente vi saluto ci vediamo al prossimo video ciao